Se lei fosse stato ministro, di fronte al patto del Nazareno, lei cosa avrebbe fatto, o di fronte comunque a delle pressioni anche sulla riforma della giustizia, lei cosa avrebbe fatto, si sarebbe dimesso? Guardi, io sono una persona molto libera, anche se dall'89 ho la scorta e non faccio 10 metri senza macchina blindata. Io avrei fatto il ministro modificando i codici, gli ordinamenti, modificando la struttura del ministro della giustizia, cioè avrei fatto una rivoluzione quella che ho in testa. Del resto non è compito mio e nessuno mi avrebbe potuto condizionare. Quindi in questo caso se lei avesse ricevuto delle pressioni non l'avrebbe accettato? Ma nessuno mai si è permesso di fare pressioni su di me perché mi conoscono bene la mia determinazione e il mio carattere. Forse è per questo che non è diventato ministro? Non lo so, bisogna chiederlo a chi era in quella stanza. Io fino a un quarto d'ora prima che il presidente Renzi entrasse in quella stanza io ero nell'elenco dei 16 ministri come ministro della giustizia. Che cosa le è rimasto di quei giorni? Molta amarezza? No, assolutamente. Per ogni cosa e in ogni cosa ci sono i pro e i contro. Sono felice del lavoro che faccio e faccio il consulente gratuito un po' a tutti, non solo per questa commissione ma anche per altre come commissionanti mafia, come insegnano le scuole interforzi, insegnano le scuole della polizia penitenziaria, insegnano l'Università di Reggio Calabria. Tutto il mio tempo libero lo faccio volontariato e racconto la mia esperienza di vita e di magistrato per cercare di spiegare ai ragazzi la non convenienza a delinquere. Qual è il suo giudizio oggi sulla prima bozza della riforma? Ma questo può essere un antipasto della riforma. Ancora bisogna scrivere tante cose, bisogna integrare tante cose sia su ciò che è già stato presentato sia presenteremo nuove cose entro brevissimo tempo. Cioè la commissione della quale sono presidente non è in contrasto, non va in conflitto con il lavoro del Ministero della Giustizia. Ci vuole un po' di pazienza e tra breve e nel medio periodo presenteremo un buon prodotto.